Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potevi vedere ci troviamo sempre qui su Skyrim in compagnia del fratello argoniano Talenjay che sta mangiando un buon panino da quel che sembra che maleducato che neanche me l'ha offerto ci troviamo nella locanda là per il pungiglione di Riften ed ero qui insieme ai miei amici come sempre giustamente chiacchieravamo anche con il bellissimo Marcurio lì di fronte grandissimo mago intento a bere il suo bicchiere di birra guardatelo come affascinante quest'uomo e per quale motivo siamo qui oggi? l'avete forse capito dal titolo? andremo a recuperare, vedremo come è possibile prendere un'arma molto ma molto forte che generalmente si ottiene attraverso una missione della Gilda dei Ladri ma c'è anche un modo per ottenerla già dal livello 1 se avete capito bene potrete ottenere una delle migliori armi presenti nel gioco fin dall'inizio molti di voi sicuramente le persone che stanno giocando a Skyrim per la prima volta in questi giorni e vi ringrazio perché sto vedendo veramente tantissime persone nuove non sanno come arrivare a Riften velocemente potete utilizzare la carovana che è presente nella città di Wytran chiedere di farvi teletrasportare di farvi portare direttamente nella città prima però di iniziare e andare a vedere come ottenere quest'arma unica voglio ringraziarvi prima di tutto per il supporto e invitarvi che se i video vi stiano piacendo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto detto questo, amici miei una volta entrati nella bellissima città questa sarà l'entrata d'ingresso principale dobbiamo andare sulla destra ci sarà un piccolo cancelletto questo cancelletto dovete aprirlo tranquilli non servirà nessun grimaldello perché potete semplicemente cliccare il tasto e si aprirà proseguire in questo vialetto pieno di fiori e di erbette fino a raggiungere esattamente quest'altro cancello questa volta però il cancello sarà chiuso con una serratura difficile inizialmente non avremo a disposizione tantissimi grimaldelli soprattutto se tenterete di arrivare in questo preciso punto a livello 1 quello che vi consiglio di fare è fare un salvataggio rapido oppure un salvataggio manuale in modo tale che se avete pochi grimaldelli e non riuscite ad aprirlo alla prima volta potete ricaricare il salvataggio e riprovare avete capito quindi che il nostro obiettivo è aprire il cancello mettiamoci qui con i bellissimi grimaldelli la serratura difficile e proviamo ad aprirlo ce l'abbiamo quasi fatta eccolo qui una volta aperto dobbiamo diventare degli abili alpinisti degli abili scalatori di case dobbiamo raggiungere quel balcone ripeto questo luogo dove entreremo questa casa praticamente ci si arriva attraverso le missioni principali della gilda dei ladri noi attraverso questo trucchetto salteremo tutto quel pezzo state tranquilli che potete fare tranquillamente quella missione a patto che non toccate nulla all'interno della casa altrimenti rischiate di far sballare tutto ve lo dice uno che la prima volta che ha provato questo trucchetto poi è andato a svolgere la missione si è buggata e non ho potuto più continuarla non perdiamoci in chiacchiere però come sempre perché parlo troppo una volta raggiunto questo cancelletto sulla sua sinistra ci sarà un baule un barile quello che dobbiamo fare è saltarci sopra ci mettiamo in questa posizione e poi risaltiamo cercando di far aggrappare il nostro personaggio come state vedendo voi con i vostri occhi con i piedi su questo tetto poi dovete cercare di passare sopra il cancello cercando di saltare anche vi potete aiutare appunto con il salto a questo punto dobbiamo oltre che passare in mezzo alla casa state tranquilli saltare il più che potete fino ad arrivare in cima al tetto molte volte non riuscirete a saltare voi cercate di fare avanti e indietro continuando a cliccare il tasso del salto e come potete vedere piano piano il personaggio riuscirà a saltare e arrivare sempre più in cima continuate da questa parte siamo quasi arrivati manca l'ultimo saltello perfetto a questo punto cosa dobbiamo fare guardarci giù ci sarà un balcone e dobbiamo arrivare proprio su questo balcone quindi state attenti buttatevi di sotto ci sarà un'altra porta da scassinare sempre con difficoltà difficile voi apritela una volta aperta entrate mettiamoci in modalità furtiva una volta dentro per il semplice motivo che ci saranno dei nemici e vi ripeto non prendete nulla perché c'è un rischio che la missione poi si blocchi e non potete più continuare la quest della gilda dei ladri utilizziamo il nostro bellissimo arco per uccidere i vari nemici quello che dobbiamo fare oltre a eliminarli tutti quanti è scendere sempre più in basso ce ne saranno altri lì perché sento le voci ma finché stiamo in modalità furtiva a noi non ci interessa e continuiamo a scendere piano piano in questa grande stanza ci sarà il nemico lì che sta non lo so osservando i cavoli il cibo noi dirigiamoci sulla sinistra e troveremo una porta la porta andrà aperta e nella stanza con tanti armadi ce ne sarà uno sospetto ed è proprio questo a fianco alla porta con la barra apriamolo avrà un pannello posteriore falso che ci condurrà in una stanza segreta continuiamo ad entrare scendiamo lungo questa scala di legno e giriamo sulla destra siamo praticamente sotto le fogne arriveremo su una pavimentazione piena di trappole continuate in questa direzione se volete sulla destra ci sarà un baule con alcuni oggetti questi potete recuperarli e non daranno fastidio alla quest quindi non recherà problemi alla missione proseguiamo da questa parte a questo punto si attiveranno delle trappole state molto attenti perché fanno tantissimi danni arriveremo davanti ad un'altra porta come potete vedere ci sarà una trappola qui in basso un filo di attivazione che potete disattivare ma a noi non ci interessa e apriamola arriveranno dei dardi velenosi e ci colpiranno e a questo punto mi raccomando soprattutto qui qui io feci il casino più totale non prendete nulla di questi oggetti per sicurezza non toccate nulla tranne che aprire la teca avrà sempre una serratura difficile una volta aperta potrete recuperare l'arma unica squarcio gelido una volta presa non ci resta che uscire nuovamente da questo posto andiamola a vedere è una spada veramente bella da un punto di vista estetico e avrà una particolarità oltre ad essere veramente forte soprattutto ai livelli iniziali che il suo incantamento aumenterà e sarà sempre più forte in base al livello in cui voi la recuperate questa forse è l'unica cosa a svantaggio nel prenderla all'inizio del gioco perché come potete vedere in questo caso l'incantamento del mio squarcio gelido dice il bersaglio subisce 30 punti di danno da gelo poi può realizzare il bersaglio per due secondi quello che cambierà in base al vostro livello sarà proprio il bersaglio subisce 30 punti di danno da gelo in questo caso io ho 30 punti di danno che è il danno massimo che quest'arma può ottenere e si ottiene se non ricordo male dal livello 45 46 superiore se voi doveste prenderla dal livello 1 al 10 quest'arma avrà solamente 5 danni da gelo ma state tranquilli ve lo assicuro che anche con 5 danni da gelo e l'effetto di paralisi quest'arma risulterà veramente veramente devastante e riuscirete a sconfiggere quasi la maggior parte dei nemici cosa dire amici miei io spero che con questo video possiate ora recuperare senza aver bisogno di fare la missione quest'arma unica squarcio gelido fatemi sapere se eravate a conoscenza di quest'arma unica ma penso probabilmente di sì più che altro se eravate a conoscenza di questo modo per recuperarla ed io con il mio nuovo amico Shadr vi ringraziamo di cuore per il supporto come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo in un prossimo video ciao